Fanno discutere a Foggia le prime fasi delle nomine del piano di stabilizzazione previsto dalla legge che darà luogo ad una vera e propria deportazione per gli insegnanti. La scelta della sede lavorativa avviene quasi alla cieca. Al precario è stato chiesto di indicare 100 province in ordine di preferenza senza conoscere disponibilità di cattedre. Elenco da scorrere sulla base della posizione in graduatoria. Se non c'è la disponibilità nella prima sede indicata, si passerà alla seconda e così via. Questo significa sacrificare affetto, famiglia, assistenza a parenti malati perché o si accetta la destinazione o si è fuori per sempre. È una vera e propria roulette russa che provocherà deportazioni di massa senza nemmeno avere la possibilità di scegliere la sede lavorativa. A causa della riforma della scuola voluta da Renzi e Giannini, secondo il sindacato della FLC CGL di Foggia, assisteremo a migrazioni di massa verso il nord senza tener conto di chi dovrà vivere con 1.300 euro al mese, magari avendo qui un contratto di mutuo o genitori anziani da assistere, mariti o mogli con un impiego che non possono lasciare. Altro che buona scuola. È singolare, sostiene sempre il sindacato, come il PD consenta libertà di coscienza al voto, sull'arresto di un senatore, ma su leggi che incidono pesantemente nella vita delle persone, ricorra alla fiducia. La mobilitazione proseguirà a settembre, in primis con l'impugnazione, dinanzi alla Corte di Giustizia europea, della legge che prova ad aggirare la sentenza che obbligava il governo a stabilizzare i precari che avevano maturato 36 mesi di servizio, anche se non in possesso di abilitazione. Sempre sul fronte scuola si sta mobilitando il Movimento 5 Stelle. Nei consigli regionali, pentastellati, stanno depositando delle mozioni che impegnano le giunte ad impugnare il DDL scuola per i suoi profili di incostituzionalità. Le regioni hanno infatti la possibilità di discutere la mozione per poi ricorrere alla Corte Costituzionale. In queste ore diverse regioni stanno calendarizzando la mozione. Il 31 luglio scorso, proprio durante il Consiglio regionale, il Movimento 5 Stelle è riuscito in Puglia a far approvare all'unanimità una mozione che impegna l'esecutivo regionale a ricorrere alla Corte Costituzionale.